il camioncino io cerco di andare più piano che puoi guarda che se c'è qualche piccola difficoltà a star ferma sul piano se batto il pugno vuol dire fermati hai parlato? accacciatevi alle finestre presentiamo il calendario delle porne de Dao questa sera alla villa dei Piasi lo presentiamo e lo vendiamo abitati, donne donne affacciatevi alle finestre ferma Nermina sono ferma anche con l'urto si è spento sei troppo pesante e chi se ne frega? non sarebbe che non porti gas più